Musica Hola gente, ZioSem è qui con voi per un nuovissimo episodio di Minecraft Precisamente la serie hardcore numero... La serie numero 1, episodio numero 11 Allora, ricapitolando Nell'episodio precedente, oggi ce l'ho qui Avevo, cioè no avevo, avevamo ossidiana e diamante Prima del diamante e poi l'ossidiana Con 3 di diamante abbiamo fatto il piccone Prendendo poi di conseguenza l'ossidiana Prima di continuare l'episodio Volevo, vi volevo accennare delle cose che vi ho detto nell'episodio scorso Ovvero che io avevo Minecraft Premium E quindi come potete evitare ho cambiato, notare ho cambiato anche skin E... che figa! Ditemi cosa ne pensate e... Indovinate un attimo chi è Poi, detto questa cazzata Passando a Minecraft Premium Ho aggiornato in Minecraft Quindi siamo nella 1.5.1 E sempre come anticipato nel scorso episodio Nello scorso episodio... Cosa volevo dire? Ah si Passeremo per la 1.6.0 Quando uscirà Quindi anche se uscirà domani Io la farò domani Detto questo Detto tutto Possiamo iniziare con l'episodio Allora, prima cosa Prima cosa Ci serve Per andare nel Nether Voglio inciantarmi Per inciantarmi devo fare un tavolo di incianti Per farmi un tavolo di incianti ci vogliono I libri Per fare i libri ci vogliono le mucche Per fare le mucche ci vuole il grano Per fare il grano ci vuole il seme Per fare il seme ci vuole l'erba Per fare l'erba ci vuole il bombillo Per fare il bombillo ci vuole l'osso Per fare l'osso ci vuole i mobs Per fare i mobs ci vuole l'oscurità Per fare l'oscurità non ci vuole il sole Quindi per l'oscurità... Ok, basta Comunque Andiamo a far mangiare un po' di fieno Ehi tu mucca Cosa fai lì? Cazzo fai lì? Fatemi prendere una spada che l'ammazzo Via No, che palle Come hai fatto a scappare? Dai però Che palle Nessuno ti ha dato l'ordine Mucca di merda Adesso voglio Per la mucca Che te Che capatanta che c'ha Allora One E ci E fate l'amore Allora Poi Largo Largo Ragazzi Largo Uh l'esperienza Quando fanno Quando fanno quella roba lì Mi dà l'esperienza Che figato Lo facciamo tutti i giorni Vabbè basta Allora Già sto morendo di fame Il che Non mi piace Poi Facciamo Un bel panino Mettiamo un po' di Mortale No scherzo Allora Prima di andare in nether Dobbiamo Attrecciarci Qui No Che cazzo dico Dobbiamo far prima Dobbiamo far prima Dobbiamo far prima Dobbiamo le canne Da zucchero Deficientemente Dobbiamo fare prima Il tavolo Da lavoro No Mi imbroglio sempre Lo so Voi non lo sapete Ma lo so Allora Quindi Libro Diamante No 700 diamanti No 700 diamanti E Ossidiana Olè Tavole 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 da incantamento Che appoggeremo Solo per il momento Qui E Facciamo Abbiamo tre diamanti Quindi facciamo Una bella spada Carbone anche mi serve Perché dopo faremo le torce Che le abbiamo finite E Spada Di diamante Olè E nether Fa paura Inoltre Dobbiamo Fare le torce Voilà Ok Le torce ce ne abbiamo Incentriamo un attimo La spada Mi sembra che senza Libreli al massimo Arrivi ad 8 Vediamo subito Yeah Contro Popopopo E fragello Degli artropodi Artropodi Boh raga Come cazzo si dice No lo so Comunque Poi facciamo Lo so che non merda Però Meglio di niente 7 Protezione 1 Benissimo 4 protezioni Degli proiettili Fa schifo Fa schifo E abbiamo Neanche un livello Vabbè Meglio di niente Poi Fatta la spada Fatta Incentrato Tutto Ah si Per accendere Il Ci vuole La selce Per il portale Ci vuole la selce Quindi ci vuole Un acerino Quindi ci vuole la selce Ma qui Vedete La selce Non ne abbiamo Io faccio una bella cosa In questo modo qui E dai Voilà Facciamo una palla di diamante E andiamo Andiamo A prendere La selce Yeah Ciao unque No Oh Ok Qui abbiamo Selce Non mi direi che non esce Un po' di selce KTP Eh non esce Eccola lì Oh lì A casa Andiamo tutti a casa Si si danni che erano i buoni coglioni Però mi scoccio di ucciderle perché Uccidendone uno Se ne fanno altri 400 Quindi è una nonna totale Poi Ferro Che dovremmo avere qui Infatti E parte la musichina di minecraft Yeah Allora Se c'è l'ingot Di ferro Facciamolo acerino Acerino Attento con questo acerino Che accende tutta la casa Ossiana E quindi dico Che abbiamo tutto Anche se Dobbiamo attrezzare Attrezzarci Tutte vanno No Questo me lo porto No Me lo porto solo due Però Perù 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 Questo me lo porto Questo me lo porto Non si può mai sapere Mi porto la metà anche di questi Questo possiamo No Questo Questo possiamo Posare Questo Questo possiamo Posare Questo Possiamo Posare E quindi direi Che possiamo andare nel Anche se sto facendo notte Io vado a dormire Ah che palla Aspettiamo la notte No però aspettiamo dentro Anzi se poi vogliamo vedere il tramonto Aspettiamo qui Che bello il tramonto Vaffanculo Devo dormire Ah che noia Ok Buongiorno a tutti Questo disegno Allora Dove fare il portale Facciamolo su quello slime Yeah Non basta Fate gli scherzi Qui andrebbe bene Per il momento lo facciamo E poi Faremo qualcosa attorno per abbellirlo Adesso mi sembra Che ce n'è un altro Speriamo di non sbagliare Sì è così È così È così E lo dico io È così Pronti? Pronti per andare Io no No basta Dai andiamo Passiamo questo Questo Adesso Speriamoci qui La mano E Go Che paura che giù Che paura che giù Ok Ho stoppato un poco Per farlo riprendere E nel frattempo E nel frattempo Sono un hub E lo so Ci posso far niente Ci posso far niente Adesso vedrete tutti Cosa sto parlando E poi non giudicherete Vabbè Vabbè Poi Da qualsiasi parte Infatti Avevo delle Pesce Ora sta Il cibo sta finendo Questo mi fa tanta paura Mi fa tanta paura Mi fa tanta paura Riandiamo nel nether Che c'è Che prendiamo un po' di quarzo Perché siamo Le 9.5 Uno Quindi Quarto Questo è lì Allora Prendiamo un po' di quarzo E prendiamo questo un po' Proprio quando uscire Ve lo andiamo a prendere Che abbiamo il nether Alle porte Ok Ci dà anche l'esperienza Che belle minerali Che danno l'esperienza Qui abbiamo un altro nether Ma non mi interessa C'è altro nether Vabbè Oh Qui abbiamo Un'apertura Che molto interessante Interessante Olè Mi faccio una bella scesa Raga La cosa che mi fa paura Non sono i pigmei I cazzi Lì Ma Mi fanno paura Indovinate un poco Secondo me Mi fanno paura Anche a voi Dai Vedete la verità I Ghast Una fottuta paura Di Ghast Non potete neanche Immaginare Quanto mi fanno paura Lasciamo delle torci in giro Per vedere che siamo passati E siccome dobbiamo trovare Quei castelli strani I castelli strani Dove andare Vediamo un po' di qua Prendiamoci questo Quarzo Lo so che ho detto Quelli devo prendere Non mi servono Cominciamo a prendere Comunque Dicevo Quei castelli strani Per prendere Gli spawn blades No Per prendere Per uccidere A me Per uccidere Meno un blades Io sto andando La ricerca di Fottuti blades Ciao pigman Fai il bravo eh Io non voglio farti niente Aspettate Lasciamo un po' di torci In giro Giusto per vedere Che siamo passati Sennò qui ci fanno Ok vedo qualcosa Eccolo Oddio che costruzione ragazzi Yeah Che figata L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Il problema è salire E andare in quel posto lì Il problema E salire E andare in quel posto lì Il problema E salire E andare in quel posto lì Non è vero Il problema Non c'è Sto creando Di problemi Ah cazzo Ciao fungo Oh cazzo Fiume Di lava E' arrivata Allora di Scavare No che scavare Efficiente Che non sono altro Di costruire Un piccolo ponte Per terra b Scherzo Comunque E dai Se lascio il tasto CTRL Mi viene qualche impulso strano Che mi faccia Lasciare CTRL Adesso siamo Siamo fottuti Siamo fottuti Siamo fottuti Siamo fottuti Dai c'è No Adesso non mi puoi finire Adesso Brutta sabbia No sabbia Terra Brutta terra Di perda La pagherai Dai Abbiamo fatto il piccolo ponte Per terra vita Non so che dico Cazzate Andiamo verso Verso la Verso la Andiamo verso la Facciamo altre torce Che stanno per finire A me non mi interessa Della C'è Dio santo Signore Aiutaci tu Adesso Blocchiamo questa parte Che pericolosa E anche questa Lo è Ok Benissimo Ragazzi Dobbiamo essere cauti Molto ma molto Ma molto Ma molto Ma molto Ma molto Cauti No cazzo però Come ci arrivo Devo fare Una scala Devo fare Una schela Che pazienza Che pazienza Che pazienza Che pazienza Quale cazzo di scala Che c'abbiamo Questo scalone qui Ragazzi Giusto che se mi perdo Mi arrabbio Tantissimo Ma ma tanto Ma 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 tantissimo Dio santo Mi hai fatto venire Una cosa al cuore Ti giuro Che io non stavo Parlando Dalla Dalla paura Un cazzo Un cazzo Un cazzo Un cazzo Un cazzo come salite come salite ok come salgo no ma che salgo con Harrapi devo scelere odio usando un gas odio usando un gas odio usando un gas Odio usando un ghast Odio usando un ghast Andiamo via da qui Che meglio Cosa ci fai tu qui da solo? Ah Fotto di ghast Ah Fotto di ghast Ok ragazzi Sono riuscito a scappare Scappare Non basta Comunque Direi che anche questo episodio È terminato Brividi Nel Nel pezzo finale Ma Ce l'abbiamo fatta Questo è l'importante E nel prossimo episodio Non so se andrò di nuovo nel Nether Perché devo prendere i blades Ovviamente abbiamo anche Visto dove si trovano Quel coso lì dei blades Cioè quella Quella costruzione dove Contiene lo spawn blade E quindi da Da sempre è tutto Dal Nether è tutto Alla prossima Ciao a tutti Alla prossima Iscriviti 8